Friedrich Nietzsche, Crepuscolo degli idoli, o come si filosofa con il martello, bello e brutto, traduzione di Susanna Mati. Nulla è più condizionato, diciamo anche più limitato, del nostro sentimento del bello. Chi volesse pensarlo liberato dal piacere dell'uomo per l'uomo, perderebbe subito il terreno sotto i piedi. Il bello in sé è solo una parola, nemmeno un concetto. Nel bello l'essere umano si pone come misura di perfezione, in casi particolari egli vi si adora. Una specie non può dire a se stessa in nessun altro modo che questo. Il suo istinto più basso, quello della conservazione, dell'espansione di sé, si irraggia ancora in tali sublimità. L'essere umano crede il mondo stesso ricolmo di bellezza, dimentica di esserne lui la causa. Lui solo gli ha donato la bellezza, ha solo una bellezza molto umana, troppo umana. In fondo l'essere umano si specchia nelle cose, considera bello tutto ciò che gli rimanda la sua immagine. Il giudizio di bello è la sua vanità di specie. Un piccolo sospetto può infatti sussurrare all'orecchio dello scettico la domanda. Il mondo è davvero diventato bello perché l'uomo lo ritiene tale? Egli lo ha umanizzato, tutto qui, ma nulla, proprio nulla ci garantisce che proprio l'uomo si dia come modello di bellezza. Chissà come si presenterebbe agli occhi di un giudice di gusto superiore. Forse audace, forse perfino divertente, forse un po' arbitrario. O Dioniso, divino, perché mi tiri le orecchie? chiese una volta Arianna al suo amante filosofico, in uno di quei famosi colloqui a nasso. Trovo qualcosa di umoristico nelle tue orecchie, Arianna, perché non sono ancora più lunghe? Nulla è bello, solo l'essere umano è bello. Su questa ingenuità si basa ogni estetica. Ne è la verità prima. Aggiungiamo subito anche la seconda. Nulla è brutto come l'essere umano che degenera. Conciò è delimitato il regno del giudizio estetico. Considerato fisiologicamente, tutto ciò che è brutto indebolisce la trista l'uomo. Gli ricorda la decadenza, il pericolo, l'impotenza. In effetti egli ci rimette in forza. Si può misurare l'effetto del brutto con il dinamometro. Quando l'essere umano è in generale depresso, allora fiuta la vicinanza di qualcosa di brutto. Il suo sentimento di potenza, la sua volontà di potenza, il suo coraggio, il suo orgoglio scende con il brutto, sale con il bello. Nell'un caso come nell'altro traiamo una conclusione. Le premesse per questo sono accumulate nell'istinto in enorme quantità. Il brutto viene inteso come segnale e sintomo di degenerazione. Ciò che anche da lontano ricorda la degenerazione provoca in noi il giudizio di brutto. Ogni segno di esaurimento, di pesantezza, di vecchiai, di stanchezza, ogni specie di mancanza di libertà, come spasmo, come paralisi, soprattutto l'odore, il colore, la forma del dissolvimento, del disfacimento, sia pure nell'ora estremo assottigliarsi in simbolo, tutto questo evoca la stessa reazione, il giudizio di valore brutto. Qui scatta un odio. Cosa odia qui l'uomo? Ma non c'è dubbio, il declino del suo tipo. Egli odia a partire dal più profondo istinto di specie. In quanto odio, in questo odio, vi è orrore, prudenza, profondità, sguardo lontano. È l'odio più profondo che ci sia. A causa sua l'arte è profonda.